Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messo al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo, sono pentito, tu gli perdonerai. Gli apostoli chiesero al Signore, accresci in noi la fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo genso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. È una parola, quella di oggi, piena di paradossi. Questa colla, questa mola da mulino da mettersi al collo piuttosto che scandalizzare qualcuno. Questa fede capace di sradicare gli alberi e di farlo spostare da qui a là. Perdonare settanta volte sette. Perché Gesù usa questo linguaggio così eccessivo, così forte? Per scuoterci, perché spesso noi ci abituiamo a tutto. Ci abituiamo ad aver ragione e in nome della ragione asfaltiamo gli altri. E ci abituiamo a perdonare, a dare una possibilità, però nello stesso tempo diciamo va bene una volta, va bene due volte, però la terza basta. E ancora è la questione della fede, che diciamo sempre non ne ho, non ho fede, non ne ho abbastanza. Gesù ci scuote dal nostro modo di fare e di pensare. Ci sposta il baricentro, da noi a Lui. La questione della vita di fede non è qualcosa che dipende da me, ma è da quanto lascio agire Lui in me. Non si tratta di rinunciare alla propria libertà, ma si tratta di aver sempre presente che in me vive Gesù. E quindi io non posso prescindere da questo nel mio parlare, nel mio agire, nel mio pensare, nel mio relazionarmi con gli altri, nel modo in cui accolgo una parola detta dagli altri, una parola di perdono, una parola di riconciliazione. Spostare l'attenzione da me all'altro. Spostare la verità della mia vita, da me stesso a Cristo che vive in me. Solo questo allora diventa il criterio del mio agire. Non quello che io ritengo giusto, ma i sentimenti di Cristo. Lo dice San Paolo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Se Cristo vive in me, vivo come Lui, agisco come Lui, penso come Lui, il modo in cui accosto gli altri, è il modo in cui Lui ha accostato e approcciato l'umanità intera. È una parola che ci scuote, che ci invita a una grande conversione. Perché questo? Perché è bello vivere così. Perché è bello vivere come il Signore ci propone. È bello vivere con Lui H24. È bello sentire questa comunione che ci spinge a vivere una vita che è totalmente nuova e che ci appartiene fino al giorno del nostro battesimo. Basta solo cominciare, provarci a credere sul serio fino in fondo e vedremo fiorire con questo stile di vita una vita completamente nuova, una vita risorta, una vita eterna.